Ho lasciato la macchina via a Margheritone, alle 10 mi chiamo la municipale ma mi dice che hanno spaccato il vetro la macchina. Prosegue la scia di furti nella centro Aretino, gli ultimi colpi messi a segno ieri sera in via a Margheritone dove sono state prese di mira alcune auto. Questa mattina ancora sull'asfalto i segni dei finestrini mandati in frantumi. Il ladro ha arraffato alcuni oggetti trovati all'interno degli abitacoli, compreso un giaccone da donna. Ora le case sono chiuse e ti entrano in casa, anche la macchina chiusa, dicono lasciare le borse ma anche il cappotto, un cappotto che era anche tutto rigirato, non è che era lasciato per bene, dici che dentro si vede che è un cappotto per bene, rigirato, ti spaccano il vetro e ti rovinano un po' la serata, la giornata e più con i prezzi che abbiamo ora si va a pagare anche il vetro. Gli agenti della volante di Arezzo hanno sorpreso il ladro che ha tentato di dileguarsi senza dare nell'occhio in flagranza di reato e lo hanno identificato. Si tratta di un cittadino straniero irregolare sul territorio italiano già gravato di alcuni precedenti specifici. L'area furtiva ritrovata è stata posta sotto sequestro assieme ad un cacciavite utilizzato per rompere i vetri delle auto. Per lui è scattata la denuncia a piede libero. Questi ultimi colpi seguono una settimana davvero nera per i commercianti a retini. I ladri nei giorni scorsi avevano fatto visita in una profumeria da un ottico ed infine da un rivenditore di bici. In tutti e tre casi erano scomparsi con il bottino approfittando di momenti di distrazione degli addetti alle vendite.